Il centrodestra sta assieme non per legge elettorale, il centrodestra deve stare assieme sui temi e sui contenuti, lo dicevo prima, allora o c'è la condivisione e deve essere estremamente chiaro, Salvini due giorni fa è stato chiaro o il centrodestra trova unità sui temi del centrodestra e uno di questi temi non può che essere il tema dell'Europa. Chi sta con la Merkel e con Schultz e chi sta con la Germania e con le politiche rigoriste e fili immigratorie non può evidentemente stare con noi, quindi o c'è la condivisione sui temi lavoro, immigrazione, sicurezza, o siamo tutti convinti ad esempio che la legge Fornero lo ribediamo, lo ribediamo. Dottore prima, giustamente ha riportato il tema sulla politica vera, pensioni, lavoro, tasse, quello che vi sto chiedendo però è che se ci sono gli strumenti per fare un'aggregazione si fa in un certo modo, se non ci sono si deve fare in un'altra. Però lo si fa a prescindere dalla legge elettorale, o c'è condivisione politica oppure ognuno andrà a fare il suo.